Vi presento l'assessore Mario Morcone, il prefetto, come devo dire, che è attualmente assessore regionale alla sicurezza e all'immigrazione. Francesco Dandolo, che oltre ad essere un professore di storia economica è impegnato, sbaglio storia economica? No, non mi sono preparata bene tutte le... responsabile, cioè si occupava dell'immigrazione per la comunità di Sant'Egidio, che voi sapete in prima linea in questo campo. E poi Hernan Vargas, che penso già conoscete, che ha curato per noi gli incontri del progetto Criticamente, che è storico anche. Ringrazio anche per l'organizzazione il nostro staff, Marco Siragusa, che pure credo conoscete. E niente, è il tema questo dell'immigrazione, che è molto sui giornali in questo periodo, anche in maniera probabilmente abbastanza strumentale, perché poi si ingigantiscono cose che in realtà poi hanno un'incidenza abbastanza relativa, come poche decine di emigrati o poche navi nel Mediterraneo. Però, insomma, in realtà è la punta di un iceberg, di un grossissimo tema che avremo sempre più presente e sempre più impegnativo per i prossimi anni. Ma, insomma, poi nel contenuto entreranno più i nostri relatori, però saremmo molto contenti, se vi fosse da parte vostra delle domande, un'interlocuzione, perché loro si aspettano proprio questo, anche di un proprio dialogo diretto con voi. Aggiungo che poi avevamo pensato che potrebbe essere una buona occasione di andare poi di fronte nella Cappella Palatina, dove c'è una bellissima mostra di arte africana, veramente una cosa abbastanza rara poi da noi, perché non è che a Napoli siano molto frequenti, esiste qualcosa. C'è un museo africano presso l'Orientale, non vedo lì Davi Canoni, l'ex rettrice dell'Orientale, che penso ha avuto un ruolo notevole nel crearlo, questo museo, il Museo Cerrato, dove poi, tra l'altro, abbiamo anche noi dato qualche statuetta che erano di proprietà di mio padre Maurizio Valenzi, non del valore di quello che c'è nella mostra di fronte. Questo perché? Perché vorrei che attraverso questo voi vi rendeste anche conto di come si tratta di civiltà, civiltà importanti, quelle di fronte alle quali entriamo poi in contatto. Perché l'arte africana, ad esempio, ha influenzato enormemente tutte le avanguardie artistiche, anche nostre, dei primi del Novecento, le avanguardie della pittura, dell'arte europea, marcandole, insomma, enormemente da non solo Picasso, ma da tantissimi altri. E qui è una cosa abbastanza scientifica dal punto di vista anche antropologico, perché è una mossa che riguarda un gruppo preciso. Hanno cercato anche di identificare i maestri, gli artisti, diciamo, che hanno lavorato, che in realtà restano anonimi, perché c'è un elemento molto magico nell'arte africana, però in realtà poi si possono anche poi studiandoli individuare. Va bene, non faccio perdere altro tempo. Dare la parola, non lo so, prima di tutto magari a Hernan, che incolloca un po' questo incontro nell'ambito del progetto criticamente. Sì, grazie mille Lucia. Ringrazio anche la vostra presenza e la presenza di tutti voi, che mi fa davvero piacere. Innanzitutto rivedervi e incontrarvi, non so, ci siamo visti con tutti? Anche con i ragazzi dell'altra scuola o è la prima volta? Per alcuni è la prima volta, per altri quindi ci rivediamo. e dire che all'interno del progetto criticamente, questo è un progetto che viene avanti da due anni, più di due anni direi, e che, sì, effettivamente, e che il nostro obiettivo parte dalla base, sulla domanda di come la storia, di come attraverso la conoscenza della storia, noi possiamo sviluppare un pensiero critico per contrastare i sentimenti di discriminazione in generale. Però diciamo che oggi, per quanto riguarda l'argomento specifico, quindi quelli che riguardano i sentimenti di xenofobia, che hanno a che fare, appunto, con processi che hanno una lunga durata nella storia, che sono i processi di migrazione, appunto. Quindi, questo processo si compone di almeno tre parti importanti. Una sono gli incontri che abbiamo vissuto, che abbiamo vissuto nelle scuole, in cui cerchiamo di fare una riflessione in comune, a proposito, appunto, di contrastare la discriminazione attraverso il pensiero critico. Due, attraverso lo sforzo all'interno della fondazione di coinvolgere tutti voi nei diversi progetti mostre artistiche che riguardano, appunto, questo nostro lavoro, direi, in comune. E la terza questione è quella che riguarda, adesso, quindi, tutti voi, che è, appunto, il concorso. Il concorso che stiamo realizzando nel coinvolgere la vostra avvicinanza, la vostra familiarità, le vostre capacità artistiche e creative nel creare, appunto, qualcosa di nuovo che ci aiuti a contrastare i sentimenti di discriminazione. Ecco, che approfitto per chiedervi, ragazzi, soprattutto voi, che ci siamo visti, siete già lavorando a qualcosa di creativo. Sì, 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 mi è stato detto di sì, quindi va benissimo. E poi, per mettere un po' in contesto, diciamo, anche come funziona dal punto di vista divulgativo i nostri incontri, vi do qualche esempio. Oggi non ho potuto portare con me la presentazione, però vi farò immaginare due esempi che ritengo molto importanti. Uno è che io, all'interno degli incontri, chiedo ai ragazzi di vedere un'immagine e di dirmi semplicemente una cosa. Se questa immagine la trovano piacevole o meno, cioè se la trovano bella o la trovano brutta, non so se ve la ricordate alcuni di voi. Per chi non se la ricorda, ovviamente perché non è stato, o per chi non ha partecipato, si tratta di un'immagine che ci propone un bel paesaggio, praticamente ci propone un paradiso. Però, all'interno di questo paradiso, quindi, i ragazzi vedono l'immagine e a un primo colpo condividono il fatto che l'immagine sia bella. Però all'interno di questa immagine, che è molto bella, c'è un divieto. C'è un divieto di ingresso a quel paradiso, a chi, ve lo ricordate? Contro di chi è il divieto? O forse non l'avete visto, quella. Il divieto è contro gli ebrei. E quindi io poi chiedo di contestualizzare ai ragazzi l'immagine. E tutti coincidono del fatto che l'immagine sia, che appartenga tra il 1933 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi alla Germania nazista. Perché far vedere un'immagine del genere? Perché in quel momento, poi, arriviamo all'analisi in comune. in quel momento, quindi, abbio, diciamo, la seconda domanda. Inizia la seconda domanda, è qual è il pubblico di quel tipo di immagini? Abbiamo un paessaggio, abbiamo un'immagine in cui ci sono bambini che giocano, però c'è contemporaneamente un divieto. E questa immagine appartiene, poi arriviamo arrivando un po' alla conclusione, che riguarda questa immagine, questa immagine appartiene, o ha appartenuto, a un libro scolastico, all'interno del regime nazista, per bambini tra i sette e i nove anni. E quindi, l'immagine di partenza sembra inocqua, però porta un messaggio molto pericoloso, almeno nei confronti di quei bambini, che sin da piccoli, quindi arriviamo un po' tutti alla conclusione, imparano a discriminare. E poi, ovviamente, da lì, dalla discriminazione a permettere e accettare la violenza, poi anche una conclusione comune che, purtroppo, a volte ci vuole veramente poco. Poi arriva un'altra domanda nel confronto con voi, ragazzi, che è questa. E se questo tipo di immagini, questo tipo di contenuto, è una questione che appartiene al passato o è una questione che arriva ancora ai giorni nostri. Da un certo punto di vista, appartiene al passato, appartiene a quel regime, almeno per quanto riguarda quell'immagine. Però, da un certo punto di vista, è un tipo di contenuto che riguarda anche un po' il presente. O che può riguardare anche un po' il presente. E quindi lì, si apre passo a un altro momento del nostro incontro, in cui, ad esempio, possiamo analizzare il contenuto di alcuni meme, quello che noi conosciamo come meme, quel prodotto molto contemporaneo a noi, in cui vediamo che anche attraverso questi dispositivi possono arrivare, anche se uno adesso può non pensarci, anche dei messaggi di discriminazione. un esempio molto emblematico all'interno di questo incontro è quello, ad esempio, riguardante, sicuramente ve lo ricordate perché fu anche, tra l'altro, molto famoso, del papa con la donna di tratti asiatici. la prima cosa che noi ci confrontiamo è quindi individuare dove sta il contenuto è sbagliato o meno. E il contenuto è sbagliato o meno non ha a che fare con la risata che può produrre quel contenuto, ma con il messaggio che, nelle mani sbagliate, senza il pensiero critico, può portare, invece, ad alimentare dei sentimenti di discriminazione. E questo nostro presente poi ci riporta anche un altro momento della storia, come lo fu, ad esempio, 1917-1918, la cosiddetta influenza che con il suo cognome ha condizionato il mondo davanti a chi? Agli spagnoli. La cosiddetta influenza spagnola. E quindi abbiamo capito, in quel momento, che ci vogliono veramente piccoli dettagli, piccole questioni, piccoli elementi per arrivare a affermare o a iniziare a percepire dei sentimenti di discriminazione. Ed è qui quando, quindi, la storia, diciamo, la storia pensata e riflettuta in maniera critica ci ricorda l'importanza, allora, di stare molto attenti davanti non soltanto a quel passato ma anche al nostro presente. detto questo, quindi, direi che e aprirei, diciamo, l'incontro di oggi arrivando, quindi, anche a un'altra questione fondamentale ed è la questione del nostro atteggiamento nei confronti dei migranti. Perché, e questa è la domanda che riguarda tutti noi, ed è per questo che oggi ci troviamo qui davanti a riflettere a proposito della importanza del pensiero critico per affrontare una questione come la migrazione però per affrontare anche i possibili sentimenti e le possibili questioni di discriminazione che possono riguardare i fenomeni di migrazione. Io mi fermo qui e darei la parola per poter continuare avanti con la discussione. Grazie mille. Voglio anche ricordare il concorso che abbiamo deciso di prorogare fino al 20 dicembre per cui voi se volete produrre qualcosa che però non sia così il compitino scolastico cercate di fare magari pensate qualcosa di originale che possa colpire anche attraverso proprio gli strumenti che usate sempre insomma i social network proprio per creare qualcosa che non sia appunto sia proprio combattere sul loro stesso terreno le fake news e il discorso di odio insomma e vorrei dare la parola all'assessore Morcone che poi ha tra l'altro alle spalle una grande esperienza al ministero dell'interno proprio in questo settore ma ragazzi buongiorno a tutti davvero benvenuti parliamo parliamo di un tema che ci divide molto e che intercetta poi le nostre sensibilità individuali molto spesso alterate ve lo dico subito perché appunto è un tema che divide molto spesso alterate anche dal consenso politico che evidentemente poi le classi politiche in genere ricercano e in qualche modo temono il tema di migliazione è un tema che ha in qualche modo come dire segnato tutta la storia dell'uomo sono milioni le persone che si muovono ogni anno dalle proprie terre per andare in altre per motivi personali per sfuggire a guerre a caressie per avere diciamo un destino che loro auspicano migliore vi dico subito una cosa insomma non esiste e questo è un punto secondo me non esiste un modo per fermare la disperazione delle persone quindi quando sentite parlare di muri di cose sono generiche cattiverie nella sostanza comunque la disperazione delle persone non la fermi e naturalmente un mondo che poi è profondamente diviso perché ha un gap enorme di differenze di qualità di vita di percorsi di speranze per il futuro di opportunità chiaramente alimenta costantemente questa ansia questa necessità anche questo diritto fatemi dire anche questo diritto perché dove sta scritto che io sono andato a Napoli che possa farla Federico II un altro è andato in Niger e non ha nessuna speranza davanti a sé e quindi è un tema delicato anche perché poi in realtà non è che possiamo risolvere i problemi di tutti su questo siamo perfettamente d'accordo però probabilmente la nostra parte la possiamo fare la possiamo fare in tanti modi non solo nell'accogliere le persone non solo nel trattarle come tali cioè come persone come noi naturalmente nella nell'intesa che rispettano che rispettino le regole che ci siamo dati per vivere in comunità che si adeguino in qualche modo al nostro standard di vita ma tirarci indietro rispetto a offrire una prospettiva di futuro a persone che vengono dalla situazione disperata è veramente difficile io dico la verità non vorrei fare la lezione cominciamo dalla convenzione in Ginevra passiamo perché diventa una cosa seccante antipatica anche se forse due concetti solo due che siano due ancore ce le dovete avere una è la costituzione della Repubblica italiana e quindi l'articolo 10 il terzo comma dell'articolo 10 della nostra costituzione basta che ve lo andate a leggere e lì troverete che noi abbiamo un valore fondante della nostra collettività e naturalmente il rispetto delle persone indipendentemente dal credore religioso dal colore della pelle eccetera eccetera l'altra è la convenzione di Ginevra che il grande passo in avanti che è del 51 poi l'abbiamo recepita successivamente poi c'è stato un percorso anche faticoso perché c'era la riserva geografica all'inizio solamente alcune persone potevamo accogliere altre no ma insomma tutto questo in qualche modo appartiene solo alla storia ma la convenzione di Ginevra è un altro pilastro almeno per quanto riguarda quelli che vanno sotto il nome di rifugiati richiedenti asilo rifugiati e quelli che ottengono la cosiddetta protezione sussidiare che è una sorta sostanzialmente comunque di rifugio in ogni caso una protezione internazionale ma la grande questione che oggi si pone è che naturalmente viene letta interpretata e vissuta diversamente tra le varie non solo forze politiche ma anche tra i vari paesi in Europa e non solo in Europa è voglio dire una lettura stretta letterale appunto della convenzione di Ginevra e quindi il rifugiato quello che ha diritto alla protezione internazionale il cosiddetto un migrante economico quello che voi sentite voglio dire questa 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 linea di confine nella realtà non esiste quasi più è solo letteraria perché cioè come fai a dire che un migrante economico non è un rifugiato uno che viene da un'acaristia e che veramente sopravvive con fatica e affronta un viaggio assurdo o e oggi rientrano tra le diciamo tra le motivazioni che danno diritto alla protezione internazionale condizioni climatiche estreme penso a quello che è accaduto per esempio in Bangladesh varie volte dubbi fragi come fai a dire chi ha diritto alla protezione internazionale è quell'altro invece che un migrante economico naturalmente poi su queste questioni che sono molto complicate sia nella loro interpretazione sia nella prospettiva che poi danno le forze politiche si come dire si accapigliano molto spesso e come ha detto bene anche Lucia prima si accapigliano su problemi francamente che non sono così incidenti come la comunicazione ci fa apparire assolutamente e non lo sono se voi pensate che solo l'Europa fa 550 milioni di abitanti credo mi domando veramente quale devastante impatto hanno qualche centinaia di migliaia di persone 200.000 persone che possono arrivare nei nostri paesi paesi vecchi perché adesso lasciamo perdere la solidarietà che è una questione che regalo a Dandolo volentieri ma c'è un problema nostro niente affatto secondario siamo paesi decadenti la Germania l'Italia la Sessungheria sono paesi che stanno invecchiando rapidamente è il Papa che ha parlato apertamente di inverno delle nascite da noi come da altre parti e quindi anche tutto il sistema economico comincia ad avere delle difficoltà importanti se non si riesce comunque a trovare una base di persone che naturalmente in un quadro di diritti in un quadro di diritti garantiti per tutti e in ugual modo partecipano allo sviluppo della della nostra società del nostro del nostro paese e garantendo poi tra l'altro chi va via chi va in pensione evidentemente anche quello che gli spetta oggi tutto questo rappresenta una grande difficoltà e vedete che già secondo me da un po' di anni a questa parte l'atteggiamento su questa cosa è cambiato uno dei più grandi demografi italiani Livi Bacci è stato pure senatore ma soprattutto è stato uno dei professori più diciamo che hanno lasciato un segno più profondo già dieci anni fa quindici anni fa il presidente Amato forse ne avete sentito parlare che oggi è in pensione è stato anche presidente della corte costituzionale ne parlavo nel 2007 del declino dei nostri paesi rispetto voglio dire alla nostra incapacità evidentemente di gestire un'evoluzione del nostro mondo che è un'evoluzione multiculturale non riusciremo in nessun modo a superare questo gap se hai voglia di fare naturalmente tutti gli interventi legislativi a favore delle famiglie e tutto il resto ma ci vogliono 20-30 anni semmai saremo capaci per riequilibrare evidentemente e per difendere poi qual'identità per me l'identità del nostro paese è l'identità dei valori costituzionali non c'è un'identità diversa dai valori costituzionali e allora no i toni alla fine si sono un po' attenuati voi siete così giovani che non potete ricordare quello che abbiamo passato invece dal punto di vista però dell'informazione negli anni 2015 2016 sono stati anni terribili dove c'è stata l'ansia comunque di arrivare a un risultato elettorale favorevole ha scatenato nel nostro paese un clima fetido comunque noi abbiamo fatto la nostra parte e l'abbiamo fatta comunque con tutte le insufficienze per l'amore di Dio che ci sono allora magari io piuttosto che fare lui c'è se sei d'accordo non so se quello che è d'accordo piuttosto che fare a questo punto una noiosa lezione su temi che peraltro sono straordinariamente belli e appassionanti però che capiscono mi piacerebbe davvero attivare una discussione con voi dove voi state parlando davanti a persone che non vi devono in nessun modo valutare quindi potete dire quello che vi pare non anche i dubbi più profondi che vi vengono la stupidaggine che sentite a casa vostra o dell'amico o dello zio che magari dà una sua particolare sensibilità su questo tema quindi e questo magari ci può anche consentire no di allargare il discorso che è molto complicato che è molto complicato e vasto perché poi naturalmente va a toccare rapporti internazionali geopolitica tutto il tema del nord Africa tutto il tema di paesi che poi non esiste solo un'emigrazione verso l'Europa non siamo necessariamente i più belli del mondo c'è un'emigrazione forte e significativa verso il nord America ci sono come dire culture anche di integrazione di accoglienza di primo livello come quella canadese tenete presente che in Canada più del 50% della popolazione proviene da altri da altri paesi non sono canadesi perché la loro identità è che essere canadesi che hanno altre stupidaggine che ci hanno fatto passare come ci sono atteggiamenti insopportabili come quelle dell'Australia tanto per parlare per parlare chiaro che tiene confinate le persone in alcune isole davvero come Ghetti naturalmente una debolezza europea e sono un europeista convinto assolutamente non solo convinto ma che veramente vede il nostro futuro solo in una casa comune con gli altri paesi perché è tanto più bello e tanto più entusiasmante perché non conti niente più da solo ormai non avrebbe più senso quindi figuratevi però sul tema dell'immigrazione sono anni che non si riesce a trovare un filo comune ma anni dal 2003 con il famoso primo accordo di Dublino accordo di Dublino è quello che ti impone di prenderti in carico la persona che arriva nel tuo paese di essere tu a gestire naturalmente le sue aspettative e le sue richieste in materia di protezione internazionale è chiaro che Cipro Grecia Italia e Spagna sono fortemente esposte e sono esposte rispetto a paesi che da sempre hanno avuto un atteggiamento di chiusura e che gli fa comodo difendere una presunta diciamo purezza della razza come l'Ungheria la Polonia paesi che onestamente guardo con con molta apprezzione per il futuro ma anche i paesi baltici non pensate che i paesi baltici se vedono un nigeriano hanno un momento di come dire davvero di incertezza perché evidentemente è un po' l'ignoranza dei problemi delle speranze delle aspettative un po' evidentemente anche un egoismo che ancora su questa questione non riesce a trovare un tavolo comune che oggi è tornata fortemente alla ribalta solamente perché siamo arrivati in Italia a 90.000 arrivi nel 2015 ne abbiamo avuto nel 2016 ne abbiamo avuto 187.000 non mi pare un problema non lo è stato allora non lo è adesso poi ci sono le nostre insufficienze ci sta la struttura di accoglienza che si approfitta della situazione la questura che rilascia con ritardo il permesso di soggiorno possiamo voglio dire particolari delle nostre difficoltà sono sono tanti e ne possiamo veramente liberamente parlare la nostra scarsa capacità di fare di questa che non una difficoltà ma un elemento di forza e di sviluppo del nostro paese è naturalmente la partita sulla quale siamo fortemente in ritardo l'unica cosa che un po' mi come dici mi conforta è che le cose che dicevano amato nel 2008 anziché Levi Bacci più di dieci anni fa oggi sono piano piano entrate nella testa di tanti e anche di forze politiche che erano assolutamente ostili e resistenti a tutto questo perché si tratta del nostro destino si tratta del nostro destino futuro e senza questi amici questi fratelli queste persone chiamatele come vi va non c'è davvero un futuro non c'è fermo restando evidentemente che sono persone e quindi vanno trattate con tutte il rispetto e i diritti che le nostre leggi le nostre costituzioni i nostri valori naturalmente attribuiscono loro ma al tempo stesso loro devono rispettare le nostre regole e non si può immaginare o consentire che evidentemente si gestiscono in maniera diversa da quella che la legge prevede per tutti i cittadini che sono sul nostro territorio nazionale io mi fermerei un attimo qui lasciare la parola un po' a Dandolo poi vediamo se riusciamo magari mi veniva in mente questa cosa della distinzione tra il migrante diciamo politico ed economico questa cosa di andare a distinguere il perché uno sta in una situazione mi ricordo durante il terremoto c'erano i senza tetto dovuti al terremoto e poi c'erano i senza tetto storici c'erano quelli che già erano senza tetto prima del terremoto e mi ricordo ci fu una discussione terribile mi ricordo che il governo diceva no noi possiamo occuparci solo di quelli lì che stanno perso la casa per via del terremoto ma quelli erano doppiamente senza tetto quelli che già stavano dentro una macchina in una grotta e poi dopo in più è arrivato anche il terremoto anche i disambili per esempio mi ricordo questo è un po' diminuito c'era tutta una distinzione l'invalido di guerra l'invalido per lavoro l'invalido no e c'è ancora anche una protezione diversa in effetti ma insomma la cosa importante è la situazione in cui uno sta più che il perché ci è arrivato a quel punto la logica insomma vorrebbe questo però sembra che la logica non sia sempre diciamo cittadina scusami Francesco prego allora io si sente si va bene allora io voglio soltanto descrivermi in pochi momenti diciamo appunto raccolgo l'invito del prefetto Morcone appunto di aprire la discussione anche con voi per presentare l'iniziativa che la comunità di Sant'Egidio da tempo devo dire dagli inizi degli anni Ottanta del Novecento ha portato avanti fino a oggi io insegno la lingua italiana la lingua e cultura italiana nella scuola della comunità di Sant'Egidio che è al centro storico e che oggi accoglie senza esagerazione non vorrei assolutamente dare numeri eccessivi ma tra i 700-800 migranti stabilmente che frequentano i corsi di italiano peraltro Lucia è venuta pure qualche volta il prefetto pure è venuto ed è devo dirvi un'esperienza straordinaria da un punto di vista umano si parlava prima di storie io vi auguro ma forse già l'avete fatto ma ve lo auguro di cuore che ognuno di voi conosca un ragazzo una ragazza una donna un uomo migrante o profugo perché imparando ad ascoltare un ragazzo o una ragazza di altri paesi di altri continenti si impara a capire molto prima di giudicare perché prima il prefetto diceva che questo è un tema che divide molto divide per cui la responsabilità di questa situazione non mi riguarda riguarda sempre altri in fondo se voi ci pensate la logica dell'emergenza è questa la logica dell'emergenza è dire io che posso fare non posso fare nulla mi trovo in un invaso da profumi mi trovo in un invaso da migranti e quindi non sono in grado di poter fare granché invece io credo che ciascuno di noi lo dico anche come società civile partendo proprio da noi che siamo qui possiamo fare tantissimo perché per esempio io l'ho sperimentato in prima persona l'amicizia stringere la mano fare una foto conoscere il nome di un ragazzo farsi raccontare è una grande un grande messaggio di integrazione è una grande possibilità che si dà a chi è migrante a chi è profugo di potersi inserire di potersi integrare perché prima lo si diceva spesso c'è il tema della discriminazione e il tema della discriminazione è sostanzialmente mettere a parte le persone separate dagli altri e questo purtroppo anche una società tutto sommato come quella napoletana quella della campagna che devo dire con tanti problemi che ci sono stati anche con tante violenze certe volte contro i migranti perché ci sono state violenze anche molto crudeli pensate soltanto alla realtà dei campi nell'agricoltura e via dicendo è una società che nel suo complesso riesce ad accogliere mi colpisce sempre molto che quando i ragazzi migranti e profughi si trasferiscono altrove vanno via da Napoli poi vengono a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Natale Pasqua qui da noi perché hanno un bel ricordo diciamo ma come tu hai un bel ricordo hai fatto una vita così stentata non avevi un lavoro non sapevi com'è però in effetti loro hanno una familiarità con questo posto allora io dico questo dico che è davvero molto importante che ciascuno di noi si può mobilitare ad accogliere queste persone che può fare il primo passo e non accettare la logica che ci pensino altri e lasciatemelo dire purtroppo la politica su questo non insegna assolutamente niente anzi la politica nega una cosa che dovrebbe governare e dovrebbe concedere diritti perché noi parliamo di queste persone quando ci troviamo in una situazione in cui non ci sono diritti diritti vuol dire che tu non puoi neanche sentire neanche di essere libero di andare in ospedale perché non stai bene perché rischi che magari viene schedato magari non lo fanno sicuramente non lo fanno al pronto soccorso però la sola paura di vivere questa situazione spaventa tantissime persone l'abbiamo spaventato per esempio con le vaccinazioni e abbiamo un bel dire vacciniamoci tutti e sì vacciniamoci tutti però voglio dire quando poi ci sono persone senza permessi di soggiorno e che devono dare le loro generalità e sanno che dando le loro generalità questo significa rientrare in una specie diventa un grossissimo problema quindi da questo punto di vista purtroppo la politica non è che voglio fare non insegna proprio nulla anzi legge questo problema lo diceva bene il prefetto prima lo legge in maniera molto strumentale per fare voti poi alla fine e per non concedere diritti è perché lasciatemelo dire sfruttare la gente ma questa è una grande verità della storia è sempre convenuto a tutti non concedere diritti significa non pagare i contributi alla persona che viene a casa a farmi le pulizie significa sfruttare nei campi senza pagare assolutamente quello che devo pagare alla persona che viene ad accogliere la frutta e gli ortaggi che poi trovo sulla mia tavola quando pranzo e quando ceno significa sostanzialmente negare la possibilità di di dare anche dei servizi di assistenza sociale pensate voi sapete no magari possiamo parlarne la legge sulla cittadinanza è un'assurdità è un'assurdità l'Italia che è un paese civile democratico è una repubblica è uno dei paesi più progrediti anche più moderni che ci sono al mondo ha una delle leggi sulla cittadinanza più retrograde che ci sono al mondo stesso se voi aveste un vostro compagno una vostra compagna che figlia di migranti non so se c'è qui in sala non ha non ha la cittadinanza eppure studia come voi sa la lingua italiana come voi è anche appassionata la cultura italiana come voi spera è il punto di rimanere in questo paese nel migliore dei modi ma deve aspettare i 18 anni perché soltanto al 18esimo anno e poi deve stare particolarmente attento a fare la domanda nel momento in cui compie 18 anni perché c'è un anno perché se poi passa l'anno non si può fare immaginate che è stato anche di separazione ahimè purtroppo da un punto di vista normativo c'è da un punto di vista legislativo c'è e ahimè lasciatemi non credo che ci siano grandi previsioni ottimistiche su questo tema ecco perché non la voglio portare troppo a lungo però l'invito è a voi e a me e a tutti noi di farci parte invece di una società civile accogliente in cui bastano anche pochi gesti ognuno lo fa per quello che può e per quello che vuole non è che lo deve fare necessariamente perché per quello che crede di volerlo fare e spesso significa anche ribadisco rivolgersi la parola l'un con l'altro capire i problemi dell'altro io per esempio un'esperienza che ho fatto mi ricordavo appunto quella vostra esperienza è di accompagnare i ragazzi profughi a raccontare la loro storia ai ragazzi italiani la sensazione iniziale c'era un enorme distacco in che punto non ci si conosce ci si sospetta l'un con l'altro questo è vero sia per gli italiani ma anche per i ragazzi che accompagnavo perché giustamente era una situazione un po' di imbarazzo in inizio è difficile anche rompere il ghiaccio dopo mi colpiva invece la grande euforia entusiasmo perché poi si scopre anche molto simili con le stesse aspettative con le stesse speranze con gli stessi sogni solo che dovete pensare che per esempio qui in Italia e meno male che sia così e questo forse è uno dei più regali più bei regali che ci ha fatto la Costituzione italiana la scuola è gratuita per gran parte della nostra carriera scolastica in Africa non è assolutamente così vi dirò di più in Italia l'anagrafe è gratuita iscriversi all'anagrafe è gratuito in Africa non è così è una delle grandi campagne che porta avanti la comunità di Sant'Egidio è per esempio di sponsorizzare l'iscrizione all'anagrafe dei bambini l'ultima cosa che volevo dire è che ieri una notizia bella sono arrivati attraverso i corridoi umanitari attivati dalla comunità di Sant'Egidio insieme ad altre associazioni la conferenza episcopale italiana e la chiesa valdese e questo si deve anche al prefetto Morcone che all'epoca ci ha dato una mano a che questi corridoi umanitari potessero finalmente essere come dire nella realtà della realtà della società italiana sono arrivati più di cento profughi afghani tra cui molte donne molti uomini forse un pochino più grandi di voi che hanno un grande desiderio per esempio di volersi integrare qua in Italia questa è una bellissima notizia perché vuol dire che ahimè di fronte anche a tanti muri che spesso stanno più nella nostra mente che poi fisicamente ci si aprono delle brecce e si aprono delle brecce nel rispetto questo ci tengo tantissimo a dire della legalità cioè non è che facciamo cose che vanno contro la legge perché la legge la legge a livello iniziale è umana guarda gli uomini guarda le donne guarda le esigenze poi sono le degenerazioni della legge che determinano storture incredibili per cui è legittimo per esempio ribadisco non dare diritti che per me è una vergogna perché se tu non dai diritti a una persona gli ledi la dignità della persona quella persona non vale nulla è una cosa incredibile assurda si fa tanto il confronto con altri paesi in Inghilterra ci si impiega cinque anni a dare la cittadinanza cinque anni in Italia quando va bene dieci anni e anche più e noi magari ci facciamo belli rispetto agli inglesi perché ci pensiamo molto meglio rispetto agli inglesi con la Brexit in Inghilterra io conosco persone profughi i migranti che sono perfettamente integrati la cui integrazione e chiudo conviene a tutti conviene agli immigrati ma conviene agli italiani perché ci possiamo tutti guardare in faccia senza nessun timore e possiamo anche dare coesione dare forza unità al nostro vivere insieme però appunto non la voglio portare troppo a lungo se volete fare domande grazie Chi è Chiara? Chi è Chiara? Chi è Chiara? Chiara, Chiara? Chiara, Chiara? Adesso Angela che è Chiara Chi è Chiara? Chi è Chiara io? Quali sono le le... Quale devo scrivere? Quale è la prima cosa che succede ai migranti appena mettono piede sul nostro territorio? Quanti tipi di migranti esistono? L'insediamento del governo Meloni ha segnato un'inversione di rotta negli arrivi? L'insediamento del governo Meloni ha segnato un'inversione di rotta negli arrivi? Via mare con gli sbarchi a Lampedusa anziché sulle coste siciliane anziché in Calabria o arrivino via terra che questo avviene soprattutto sul confine nord-est quindi in Friuli attraverso il Carso, i boschi e quindi la Slovenia, la Croazia, la Slovenia e poi l'Italia naturalmente la prima misura che viene adottata è quella dell'identificazione personale se hanno documenti evidentemente vengono registrati quei documenti ma molto spesso i documenti non li hanno o perché hanno interesse a distruggerli o perché comunque non sono riusciti a portarli con sé e quindi l'identificazione personale con nome, cognome anche naturalmente il dato biometrico quando questo è necessario a cui segue una fase di assistenza medica per cui di fatto viene fatto anche uno screening medico tanto più nel periodo del Covid è stato molto approfondito per la preoccupazione poi che aumentasse e moltiplicasse il rischio Covid in Italia superata questa fase di primissima accoglienza vengono mandati in strutture per il primo periodo di accoglienza per valutare quello che poi è l'oggetto della seconda domanda cioè se loro intendono fare una domanda di asilo e quindi chiedere allo status di rifugiato o la protezione internazionale nel nostro paese oppure non intendano farlo normalmente la gran parte comunque fa la domanda sostenendo una serie di cose vere in alcuni casi non vere suggerite in altri casi hanno ucciso mio padre in Niger la mia famiglia è stata esterminata cioè cose che diciamo sono da fondamento all'eventuale possibile riconoscimento di una sorta di persecuzione che dà diritto alla protezione internazionale le percentuali al momento sono che su 100 persone su 100 casi diciamo una piccola parte ottiene effettivamente la protezione quindi un 13% 12-13% un'altra parte fino al 50% ottiene quella che prima si chiamava permesso umanitario cioè in realtà pur se tu in realtà non sei un rifugiato ma la tua condizione che sia una condizione personale fisica familiare eccetera noi ci rendiamo conto della tua situazione quindi ti consentiamo di rimanere nel nostro paese c'è un buon 50% forse qualcosa in più invece che a cui viene rifiutata la domanda di asilo e di protezione internazionale nel nostro paese naturalmente questi hanno diritto di proporre domande al giudice per contestare e quindi far riformare la decisione delle commissioni perché ci sono 46-47 commissioni su tutto il territorio nazionale che esaminano queste domande e questo è un iter in genere lungo che poi alla fine diciamo la verità consente a queste persone di rimanere comunque sul territorio nazionale perché non possono essere mandate via prima che il giudice non decida se hanno torto o hanno ragione no 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 eccoci questo voglio dire e qui è la prima grande ipocrisia no la prima grande ipocrisia che voi sentite devono andare tutti a casa dobbiamo andare a casa cioè è impossibile cioè non è che è impossibile nel senso che mandarli via con i famosi rimpatri forzati cioè intendo dire la prostituta nigeriana a cui ci mettono i laccetti di plastica la mettono sull'aerea la fanno scendere in Nigeria questa è una cosa che si può fare solamente con i paesi che te lo fanno fare con cui c'è un accordo di riammissione c'è un accordo per riportarli a casa oppure con i rimpatri volontari assistiti che è l'unica alternativa possibile il rimpatri volontari assistiti significa che tu non hai fatto fortuna in questo paese non sei riuscito a trovare un lavoro non ti sei fatto un percorso ci sono dei fondi europei che ti consentono di dire io ti riporto a casa se tu ci vuoi andare ti do pure una cosa di soldi per però soldi attraverso diciamo strutture internazionali che ti aiutano a reinsediarti nel tuo paese quindi che ne so ti compri una macchina usata e ti metti a fare il taxi ti apri un negozietto ti vendi cioè un minimo di attività economica che ti consenta di ripartire reinsediandoti nel tuo paese perché i rimpatri in astratto cioè il rimpatrio forzato quello che in maniera muscolare qualche politica ogni tanto indica come soluzione è una soluzione che non esiste ma non che non esiste in Italia non esiste i tedeschi non riescono a farlo i francesi non riescono a farlo e noi non riusciamo a farlo se non in un numero limitato di casi con i paesi con i quali c'è un accordo specifico e soprattutto in casi gravi perché poi è anche molto costoso se tu provi a farlo ecco provate a immaginare anche per semplificare l'immagine se voi provate a farlo con un paese con cui non c'hai l'accordo di riammissione quello lo fanno proprio scendere tu lo metti sull'aereo dell'Italia che non è più all'Italia non so come si chiama arriva dove deve arrivare e non lo fanno scendere proprio dall'aereo te lo rimandano a casa sull'aereo stesso che l'ha portato lì perché evidentemente tu non puoi immaginare di mandare una persona in un altro paese che non sia accettata da quel paese quindi in sostanza è una oltre che una cosa odiosa ovviamente ma una forte falsificazione è una fake news tipica quella di dire dobbiamo rimandare tutti a casa cioè una stupidaggine che si usa in televisione nei talk show ma che in realtà non ha mai trovato concreta attuazione perché non la può trovare e questo ha maggior ragione no dovrebbe convincerti che forse la cosa migliore è fare dei percorsi e trovare delle misure per includere queste persone nella nostra società costruire dei percorsi utili affinché queste persone diventino parte della nostra collettività perché diversamente poi te lo trovi alla stazione sopra la panchina della stazione te lo trovi sotto la galleria Umberto Prima che dorme nel sacco a pelo cioè che interesse abbiamo noi non solo dal punto di vista morale evidentemente ma anche dal punto di vista proprio concreto materiale ad alimentare queste forme di come dire di difficoltà di persone che sono in difficoltà e che poi alla fine comunque gravano sui nostri servizi questo è il tema che con un po' di buon senso bisognerebbe naturalmente affrontare e però la paura del diverso la paura dell'altro serve a alcune fasce della politica serve perché costruire il conflitto significa praticamente poi poter adottare misure che almeno fittiziamente affrontano quella situazione in realtà acquisire consenso perché tu pensi che Lucia farà questo farà quello e farà quell'altro in realtà Lucia non farà niente di tutto quello che tu hai detto che dovrà fare e però tu ti fidi delle stupidaggini che ti propinano per televisione l'insegnamento della Meloni invece vi devo dire molto francamente perché ne possiamo parlare liberamente io che ero molto preoccupato non ve lo nascondo perché diverso è stato il 2018 dove sono state fatte le assurdità che ci hanno reso ridicoli nel mondo ridicoli nel mondo non so se avete mai sentito la nave 18 cioè una nave militare italiana che tu fermi non fai scendere le persone ma al di là dell'aspetto morale che è grave ma anche dal punto di vista proprio normativo è una follia però quello serviva a fare spettacolo il governo Meloni è molto più cauto è molto più prudente su questa cosa molto più prudente si è tentata questa operazione che ovviamente io non condivido però questa operazione già attenuata di chi aveva bisogno e di chi invece poteva rimanere sulla nave per tentare di mascherare il tentativo di coinvolgere altri paesi l'idea di fondo era di accelerare un processo di redistribuzione perché c'è un accordo di redistribuzione ma è un accordo volontario in Europa non è un accordo obbligatorio per cui partecipano alla redistribuzione solo quelli che vogliono partecipare e quelli che non non partecipano ma si è aperto tutta questa partita per un nuovo piano europeo dove ci porterà non lo so perché le posizioni sono comunque molto aspre le aspettative nazionali dei vari stati sono sempre molto con lo sguardo rivolto ai sentimenti che nelle proprie popolazioni hanno e quindi al voto al consenso politico io mi auguro che si riesca a fare un passino avanti che però è un passino avanti provate a immaginare che non riguarda solo le persone riguarda anche la politica estera quello che si farà per esempio verso il Nord Africa la necessità di garantire ingressi legali noi ce la siamo cavate devo dire la verità e anche molto nobilmente rispetto a tanti altri paesi dei quali non voglio che non voglio citare con i canali umanitari che diceva Dandolo i canali umanitari però li facciamo solo noi qualcuno lo fa la Francia occasionalmente li voleva fare la Polonia ma poi non l'ha mai fatti ma noi con i canali umanitari perlomeno le persone che sono veramente in cattiva stato di salute anziché ci riportiamo in Italia e questo perlomeno diciamo è un percorso che è rimasto in piedi anche negli anni bui del 2018 2019 2020 e rimarrà in piedi anche con questo governo però bisognerà prevedere prima o poi una possibilità di ingresso legale nel nostro paese che non c'è oggi l'ingresso è solo stagionale cioè tu puoi venire in Italia secondo i numeri che vengono messi in un decreto fatto assolutamente a cavocchio scusatemi la crudezza del linguaggio per sei mesi per raccogliere i pomodori e Pachino a Siracusa anziché per andare a Foggia a Mieterilgrano anziché per andare in Calabria per le arance poi magari rimane lo stesso legalmente in Italia ma la possibilità legalmente di far venire una persona a lavorare da te come era previsto fino a diversi anni fa è stata totalmente bloccata e congelata tutta questa normativa andrebbe rivista e andrebbe rivista con dei criteri insomma ripeto non solo di rispetto dei diritti delle persone ma anche di interesse nazionale mi permetto di dire anche di interesse nazionale la Meloni da questo punto di vista ho finito si sta muovendo un po' più cautamente del suo predecessore voleva intervenire Lida Viganone la nostra componente presidente del comitato di indirizzo della fondazione si sente? ho sentito cose molto interessanti e condivido le condivido tutte però volevo un po' approfittare della presenza dei giovani per una piccola integrazione che mi sembra importante noi parliamo ai giovani è fondamentale il futuro di questo paese è nelle vostre mani molti di noi hanno fatto quello che dovevano bene o male che sia non lo so la memoria ho sentito ricordo la memoria è fondamentale non perdiamo la memoria e non dimentichiamo che questo paese è stato un paese di emigrazione ecco questa è la chiosa che volevo fare noi abbiamo alimentato insieme all'irlanda flussi migratori epocali a partire dalla seconda metà dell'ottocento unità d'italia e poi nella chiusura della seconda guerra mondiale dunque noi siamo un popolo di migranti portato ad esempio in generale perché abbiamo alimentato un flusso migratorio enorme in una prima fase riguardava anche il nord in una seconda fase solo il mezzogiorno d'italia prevalentemente ce lo ricordiamo e adesso assumiamo questi atteggiamenti noi siamo stati discriminati negli anni 50 in svizzera in molti locali pubblici c'era un cartello vietato l'ingresso ai cani e agli italiani anche e negli anni negli anni dal 38 al 45 l'ingresso era vietato ai cani e agli ebrei ok non ce le dimentichiamo queste cose ci tenevo a fare questo passaggio perché perché spesso parlando con gli studenti io insegno all'università mi accorgo che loro non hanno cognizione allora abbiamo perso la memoria noi siamo un popolo di migranti il mio mio nonno è tornato a 18 anni dall'argentina e se voi andate indietro nella vostra famiglia probabilmente qualcuno che è andato via lo trovate perché sono stati talmente tanti abbiamo 9 milioni sì certo e in un'epoca terribile in un'epoca terribile quando quando partivano dal mezzogiorno d'Italia i contadini poveri analfabeti con la valigia legata con il cartone che è un'immagine che è rimasta questa nella nostra memoria allora io guardate il confine degli Stati Uniti Messico è presidiato da un muro c'è un muro e ci sono le guardie armate che sparano sparano sui messicani e i muri li hanno costruiti anche a destra l'Ungheria ha fatto un bel muro che non è proprio un granché però i muri quelli lì possiamo sperare di abbatterli quello di Berlino è stato abbattuto anche se però subito dopo ne sono venuti fuori altri ma il muro peggiore è quello che non si abbatte e quello che invece dovremmo abbattere è quello che sta nelle nostre teste ecco quello lì è il muro che bisogna abbattere e aprire e aprire alla multiculturalità l'integrazione nel rispetto non l'assimilazione perché io non condivido l'assimilazione non li dobbiamo assimilare non devono diventare come noi perché nel rispetto delle diverse culture allora io credo che i giovani che sono qui che sono la classe dirigente del futuro speriamo di una politica migliore di quella che ci ha guidato in tutti questi anni i giovani credo che debbano avere coscienza di questo dobbiamo lavorare per questo perché come giustamente è stato detto il fenomeno migratorio non si ferma non ci sono muri e il futuro è questo perché quell'Africa che ogni tanto si cita l'Africa 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 è il continente che continuerà a crescere mentre noi invecchiamo e la popolazione diminuisce l'Africa continuerà a crescere la Nigeria sarà il paese che alimenterà in futuro un flusso migratorio allora questi problemi vanno affrontati allora pensiamo e poi posso dire spesso noi siamo considerati un paese di transito perché molti non si vogliono fermare qui vogliono raggiungere le loro famiglie che sono altrove ci ho anche un problema di lingue no sono quelli i paesi che hanno fatto la colonizzazione e insomma in qualche modo tutto torna scusate tanto io voglio fare una domanda essendo che sappiamo che siamo in un paese che insomma l'Italia non è che funziona tanto come in tutti i sensi insomma come lavoro come anche altre cose no volevo appunto domandare perché appunto gli stranieri sanno che comunque in Italia non è che funziona tanto perché vengono proprio qui in Italia cioè questa è la domanda come facciamo ad assicurare un futuro ai migranti se noi riusciamo a trovarlo noi un futuro allora sì siamo un paese che non funziona tanto però agli occhi dei migranti noi funzioniamo molto bene perché anche agli occhi soprattutto dei profughi e di chi è perseguitato almeno come primo impatto mi colpisce molto per esempio che loro apprezzano tantissimo la libertà la libertà che vuol dire poter esprimere liberamente la propria opinione senza essere perseguitati per questo oppure lo dicevo prima la scuola gratuita io ho conosciuto tanti ragazzi analfabeti migranti abbiamo anche il problema dei ragazzi migranti analfabeti bene sono analfabeti perché in Africa la scuola non è gratuita e anche quando si paga dista chilometri e chilometri da dove abitano e poi mi colpisce tantissimo che quando vengono da noi alla scuola di italiano questi ragazzi analfabeti non sanno né leggere né scrivere imparano rapidamente a leggere e a scrivere perché sono fortemente motivati perché nessuno mai si è messo lì a dargli un minimo di attenzione in sostanza quello che io colgo spesso in loro non è soltanto una realizzazione da un punto di vista lavorativo ma un grande desiderio di gioia di felicità che è un diritto innegabile sarà scritto nella Costituzione americana e noi siamo una patria di questo diritto fondamentale con genovesi illuministi e via dicendo il diritto ad essere felice ditemi voi come si può negare un diritto a una persona neanche che secondo me è quasi equiparabile al diritto di essere sfamati o al diritto di essere rispettati come persone si diceva prima voglio soltanto fare un cenno molto rapido quello che diceva il prefetto io per esempio se voglio far venire un ragazzo qui a farlo studiare in Italia non lo posso fare lo sapete questo? questo era possibile fino agli inizi del 2000 2001 2002 poi c'era la cosiddetta sponsorship per cui io conoscevo anche tante brave persone qua a Napoli che avevano sapevano attraverso loro contatti amicizie per dicendo di ragazzi che volevano venire qui e li ospitavano addossandosi la persona che li ospitava la cosiddetta presa in carico quella si dice in gergo più tecnica presa in carico il fatto che gli garantivo io la spesa a dargli una stanza una cosa del tutto civile del tutto civile normale e che avrebbe aiutato tantissimo a rendere i flussi migratori molto più governabili questo oggi non è più possibile io cittadino italiano non posso ospitare a casa mia un ragazzo o una ragazza o anche una persona che ritengo che voglio aiutare di mia iniziativa e questo secondo me lede enormemente quelli che sono anche i miei diritti di italiano nel fare un minimo di accoglienza e di integrazione ora per esempio nelle università della Campania io alcuni li seguo perché il rettore della Federico II mi ha dato la delega per accogliere e integrare ragazzi profughi e migranti nell'università stanno cominciando a laurearsi grazie anche a un aiuto concreto di fondazioni per lo più private che gli danno una borsa di studio bene questi ragazzi hanno il desiderio di far venire la madre il padre qui in seduta di laurea sapete quanto tempo ci vuole per far venire un padre una madre un anno ed è un diritto cioè che cosa c'è di più bello che un ragazzo africano si laurea far venire il padre la madre temporaneamente ha tutta la possibilità anche questo ragazzo di poterlo ospitare quindi non è che va a pesare sul solito discorso sullo stato no no lui si offre anche lui in prima persona di accoglierlo nella sua abitazione per il periodo in cui rimarrà la madre non possono venire questa è una logica assolutamente divisiva che non farà bene al nostro paese anche perché noi siamo abituati chiudo veramente a una categoria del profugo e del migrante diceva bene la rettrice al profugo e al migrante come qualcosa di sempre uguale poi tu conosci una persona conosci un migrante un ragazzo conosci un profugo e vedi che poi lui l'identità del profugo e del migrante dopo due tre anni se l'ha abbondantemente dimenticato e ha fatto tutto un percorso di integrazione qui in fondo i permessi di soggiorno umanitari servivano a questo anche a dimostrare che c'era una costruzione nel costruire insieme pensare insieme una nuova cittadinanza per cui se tu ti comporti bene cominci a lavorare impari la lingua sei più appassionato di me dell'Italia fai più tu alle battaglie perché tanti ragazzi migranti sono pure così ma pure spesso sono molto più appassionati su certe cose ad esempio di carattere proprio di carattere sociale anche di carattere artistico si diceva prima invece tutto questo non è messo a servizio del nostro paese e questo sarà un danno purtroppo incalcolabile e qui io mi permette di dire che spero davvero ma non sono un po' ottimista sul governo meno si parla tanto di difendere i diritti no? si fa tutto questo discorso di difendere io credo che l'Italia abbia il problema enorme di garantire ancora ulteriori diritti perché una grande democrazia è un paese che vive nella libertà e che proprio per questo diventa un territorio che attrae che piace non tanto per ragione chi dice non funziona tanto da un punto di vista lavorativo una sola cosa per esempio Napoli ha tanti problemi di carattere sociale ditemi voi disoccupazione quando questi problemi di carattere sociale hanno interferito con la presenza dei migranti tra giovani italiani e giovani migranti mai perché sono aspettative totalmente diverse ed è anche giusto che sia così un ragazzo italiano perché deve fare gli stessi mestieri faticosi via dicendo che hanno fatto i loro genitori spera altro e giustamente deve sperare altro e allora facciamo spazio a chi invece vuole fare questo tipo di lavori per cominciare un cammino di integrazione questo volevo giusto anche per per dare anche qualche altra altra risposta e anche per cercare un po' ringraziando ovviamente tutti gli interventi di sintetizzare un po' se io vi chiedo di fare un semplice esercizio di pensare a questi tre concetti vi renderete conto della carica semantica che ha ciascuno di loro se io dico persone quel concetto vi dice una cosa se dico esseri umani anche però si dico migranti o si dico stranieri quegli altri due hanno un'altra carica e questa carica semantica è quella che ci porta appunto a fenomeni scusatemi come quello della discriminazione che vi dicevo prima e quindi là va fatta la prima attenzione a questa questione no? diciamo nella domanda che ci ha posto il tuo nome? la domanda che ci ha posto Salvatore ha parlato anche di stranieri non soltanto del fenomeno di migrazione ma anche usando questo concetto ed è interessante quindi rifletterci un attimo perché e vi riporto anche a degli incontri che facciamo noi all'interno delle scuole arrivato a un certo punto cerchiamo di definire che cosa sia la xenofobia perché molti di loro non lo sanno e quindi individuiamo il concetto arriviamo a dire fobia ok è una paura e poi arriviamo quindi all'altra parte al prefisso xeno di quello che è fuori la paura dello straniero e poi dico io ai ragazzi essendo io uno straniero ragazzi avete paura di me per fortuna rispondono tutti sempre no però poi viene la seconda domanda che è quella più importante avete mai avuto paura da qualche straniero e là ci pensano un po' e in quel momento quindi che viene la terza domanda ma se questa paura è reale secondo voi l'avete imparato dal nulla o l'avete imparato all'interno di una cultura e la risposta a cui arrivano i ragazzi è che l'hanno imparato all'interno della cultura cioè che l'hanno imparato guardando la tv seguendo i social all'interno di casa con gli amici questo è un punto molto importante e lì è dove c'entra il pensiero critico perché perché nel momento in cui e si diceva prima arriviamo quindi alla questione di cosa possiamo fare noi visto che anche e rispondendo alle due domande poste visto che anche altre questioni vanno risolte dal punto di vista politico cioè dal governo da come si gestiscono le risorse da come si gestisce le opportunità di come si gestiscono le opportunità di lavoro allora quindi cosa possiamo fare noi almeno tre cose la prima sarebbe quella di non partecipare alla discriminazione la seconda sarebbe quella di partecipare all'accoglienza e partecipare all'accoglienza significa dare una voce a coloro che non ce l'hanno e il terzo punto è esattamente quello che riguarda fare quel che possiamo dal più piccolo gesto come quello ad esempio che riguarda appunto il concorso di cui ci ha parlato Lucila prima e che si iscrive all'interno del progetto criticamente che ci fa stare anche oggi qui seduti a condividere questo spazio e questo volevo volevo dirvi grazie a tutti grazie a tutti